Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, una conferenza stampa convocata stamani per annunciare importanti novità per quanto riguarda il bilancio di previsione 2016. Novità contenute in una lettera a firma del sottosegretario De Micheli pervenuta stamani. Il sottosegretario De Micheli è il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, e chiaramente dopo un lavoro complicato degli ultimi due mesi la lettera e la declarazione del Governo che verranno dato per maggiori uscite e minori entrate del Comune dell'Aquila 16 milioni di euro. A fronte di un advisor che era stato richiesto dalla sottosegretaria De Micheli per conto del MEF che prevedeva 18 milioni 896 con 4 milioni da decidere. Quindi si è trovata una via di mezzo. È chiaro che il Comune dell'Aquila continua ad avere ancora una situazione sociale precaria, ad avere ancora difficoltà nel comporre un bilancio perché le entrate del 2008 in questo momento non riusciamo ad averle. Però è anche importante che noi aquilani abbiamo dimostrato che ci rendiamo conto di qual è la situazione del Paese, perché la situazione del Paese, trovare questi 16 milioni non è facilissimo. Far capire al resto del Paese, hai circa 7.999 comuni italiani che stanno messi malissimo anche loro, che per noi ci vuole un'attenzione diversa. ha favorevolmente colpito per dimostrare alla sede d'Italia Guilani il fatto che noi con fatica, con sacrificio, abbiamo aumentato la tari di ben nel 20%. Fortuna l'abbiamo fatto perché questo ci evita di doverla ritoccare ulteriormente nei prossimi mesi, cosa che sarebbe stata impossibile. Adesso quali sono i problemi? I problemi sono di definire un passaggio tecnico perché continuiamo ad avere un problema sul patto di stabilità. Perché noi abbiamo il bilancio del Comune dell'Aquila, che è quasi quello di Torino, di un miliardo e 300 milioni, perché sul nostro bilancio transito tutti i soldi e la ricostruzione. Quindi voi capite che è veramente un pasticcio. Purtroppo la macchina a Roma, il cervellone, il programma che calcola il patto di stabilità, non riesce ancora a capire fino in fondo che in effetti noi abbiamo il bilancio di una città di 70-80 mila persone, non di Torino, d'accordo? Noi abbiamo un bilancio maggiore di quello di Bologna, cioè insomma è un po' complicato. Ci abbiamo da definire questo e poi l'altro passaggio politico da definire in questo momento è quello che l'accordo che abbiamo fatto con il governo e sul quale adesso lavoreremo di qui alla legge di stabilità, di sapere non più di anno in anno quello che ci viene dato, ma di fare una sorta di roadmap, cioè vale a dire 2017, 2018, 2019, 2020, in base a quelle che saranno le previsioni, che io spero siano rose, del rientro delle minori entrate attuali, perché vorrà dire che abbiamo recuperato gran parte dei centri storici soprattutto, quindi questo è il passaggio. Sindaco, due domande ancora. Attraverso quale provvedimento di legge verranno stanziati questi fondi? Si parla del prossimo utile a giugno, possiamo pensare al decreto antilocale? Ah, guarda, mi diceva Matteo Renzi, dice non so se si chiamerà antilocale, il primo canale valido sarà utilizzato, io credo nel mese giugno, adesso quindi che succede? Noi il 25 approviamo, 23-25 approviamo un bilancio come quando si era bambini, no? Per finta, nel senso che è un bilancio con il trasferimento zero, perché non abbiamo il titolo normativo, quindi è un bilancio che viene approvato tecnicamente, perché approviamo questo bilancio? Perché altrimenti, perché se è messo con il limite invadicabile il 30 di aprile, il prefetto ci dovrebbe sciogliere. Una volta che abbiamo questo bilancio comunque approvato, quindi siamo a posto rispetto alla tempistica di legge, prevista la scadenza di legge, aspettiamo l'ora X nella quale il governo, il Consiglio dei Ministri valerà il decreto. Il decreto è intermediamente in vigore, voi sapete, subito dopo che viene emanato, una volta che è con accordo il Capo dello Stato che lo firma, a quel punto è immediatamente legge, per cui noi il giorno stesso in cui viene pubblicato, c'è la firma del Presidente, voteremo il bilancio vero, che già avevamo pronti noi diverse varianti, e approveremo questo bilancio che andrà in Consiglio Comunale come max emendamento. Questa è una tecnica che ad esempio utilizzava il Sindaco di Salerno. Sindaco di Salerno faceva il bilancio subito, già nel mese di novembre, faceva il bilancio dell'anno dopo. Chiaramente fare un bilancio senza allora legge finanziaria o di stabilità era una sciocchezza, perché ti cambiava un sacco di aspetti. Allora lui che cosa faceva? Votava il bilancio, si informava, stava anche alla Camera un periodo, di quello che succedeva come provvedimenti per gli enti locali, le aziende municipalizzate e così via. Fra Natale e Capodanno convocava il Consiglio Comunale con un max emendamento e così lui il primo di gennaio aveva approvato il bilancio. Ecco, noi siamo a fare una cosa di questo tipo. Allora, in conclusione, è la prima volta che si approva da dopo il terremoto il bilancio in un tempo comunque utile, per cui da giugno avremo il bilancio. E che devo ringraziare da Matteo Renzi, passando per la De Michelli e per Claudio De Vincenti, devo ringraziare l'intervento di Lorenzo Guarini, che mi sono incontrato tre giorni fa, e dopo di che devo ringraziare Luciano Alfonso, Giovanni Lolli, Stefano Pezzopane, per il loro impegno e soprattutto a mia maggioranza, devo dire, l'ha aggiunta perché hanno assunto una posizione non facile, politicamente decisa, come al solito, nell'interesse della città. Un'ultima domanda. A fronte dei fondi che il Comune aveva quantificato in 24 milioni di euro, sono 16, prevale la soddisfazione perché i fondi comunque sono arrivati o un po' di delusione perché meno di quanto si aspettava e aveva chiesto? Ma è chiaro che se fossero stati 24, però francamente io, se devo essere sincero, non pensavo a 24 per un semplice motivo. Io credo, questa è una cosa da quale voglio parlare con la città nei prossimi due o tre mesi, voglio parlare con la città. Io credo che sia arrivato il momento che noi diciamo anche all'Italia e all'Europa che cosa vogliamo essere e cosa siamo. Chiede ancora 24 milioni come l'anno scorso, avrebbe voluto dire che quest'anno non abbiamo fatto niente, nessuno sforzo, nessuna operazione, le cose vanno avanti. Questo non è utile alla città. Noi dobbiamo far vedere che stiamo facendo tantissimo, perché è vero, che siamo anche gente che non ci sta marciando, al contrario di quello che si dice, siamo quelli che non ci stiamo marciando noi, che l'obiettivo è di correre, l'obiettivo è di essere una delle prime 50-60 città europee di qui a qualche anno e ribadire anche con questo fatto dei 16 milioni e anche con il fatto che abbiamo aumentato, ci siamo aumentati la Tari, ribadire che noi vogliamo la commissione di indagine del Senato. Là è brutto, l'erba voglio, no? Noi vogliamo, non lo spieghiamo, noi vogliamo la commissione di indagine e chiediamo di essere equiparati agli altri terremonti, in particolare su quello che viene definito come best practice italiana, cioè la miglior pratica che c'è stata nella ricostruzione, che è quello del Friuli. Io ribadiremo questa cosa a Matteo Renzi, è ormai diventato il mio tormentone, perché credo che noi abbiamo tutto l'interesse, al di là del nostro orgoglio di Aquilani e delle storie di ciascuno degli Aquilani, noi abbiamo tutto l'interesse politico di prospettiva di far vedere che questa città è stata ricostruita grazie alla grande solidarietà del Paese, ma che è stata ricostruita bene, è stata ricostruita risparmiando e senza che gli Aquilani ci abbiano marciato. E anche nel bilancio dobbiamo stringere un po' la cinghia, noi stringeremo la cinghia, non toccando però quelle che sono state in questi anni della nostra amministrazione, le idee di fondo, le politiche sociali, la cultura come punto fondamentale del nostro sviluppo e i diritti di cittadinanza, che vuol dire lo sport, lo sport per i più giovani e così via.